Ciao a tutti e benvenuti a Jasko Trading, il vlog Jasko che ti rende iniziato sulle tecnologie normative e normative nel mondo dei piedi di sicurezza. Sono Riccardo e oggi vorrei presentarvi uno dei nostri venditori, Shammal da 3Run Line. Ma andiamo ai dettagli. 3Run è una delle nostre linee patente, fatte da tre diverse densità di ingegno poliuretano. L'outsole ha la densità più difficile, in modo da offrire una davvero buona resistenza anti-sleep. Nel medio c'è una densità estremamente soft, in modo da dare un super comfort. Il terzo strato, chiamato il ring di stabilità, è ingegnato con pressione medio, in modo da migliorare la stabilità dei piedi. L'upper è creato di testi di perspire e resistente di acqua. Inoltre, è un modello S3. Inoltre, questo modello include una insula memoria, in modo da dare un comfort estremamente che puoi sentire durante la walk. Inoltre, ragazzi e ragazzi, sempre chiamate i copi di sicurezza per il vostro lavoro. Jasko, ovviamente, con tutti i prodotti in Italia. E se hai piaciuto il video, clicca il like e lo share in social media. E se hai bisogno di più informazioni, puoi lasciare un commento qui sotto. Inoltre, dovremo aiutare il vostro lavoro. 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 Inoltre, dovremo aiutare il vostro lavoro.